Subiamo tutti i giorni centinaia di intrusioni o tentativi di intrusioni alle nostre reti informatiche. La domanda è se abbiamo avuto finora danni significativi e fortunatamente no. Pur essendo costantemente sotto tiro, finora l'Università di Padova è riuscita a proteggere i propri dati dagli attacchi informatici dei cosiddetti hacker. Ciò non vuol dire però che si debba abbassare la guardia, soprattutto di fronte alla crescente capacità tecnologica di chi cerca di inserirsi negli archivi di istituzioni, aziende o semplici cittadini. Si inquadra così il protocollo che l'Ateneo ha siglato con la Polizia di Stato, un caso finora unico in Veneto. Sarà un rapporto diretto anche con i responsabili dell'IT, dell'Università, per cui se ci sono particolari attacchi, se ci sono degli alert o delle segnalazioni che richiedono un immediato intervento per capire esattamente di che cosa si tratta, ovviamente c'è un filo diretto e quindi si lavora insieme per impedire ovviamente che l'attacco sia compiuto. Non esiste solo lo spionaggio o il furto di dati sensibili in ambito economico. Nuovi reati come quelli informatici presuppongono anche nuovi bottini. L'Università ad esempio possiede dati di decine di migliaia di ragazzi. Le informazioni che cercano sono molto spesso dati di conoscenza ampia di una popolazione giovanile, di un'organizzazione, che poi possono essere usati oggi, domani, tra un mese, per obiettivi economici o per obiettivi economico-criminali.